Sul Gran Sasso si lavora su più fronti, da un lato per la riapertura della funivia che potrebbe avvenire i primi di luglio dopo gli esami imposti dal Ministero che si devono fare, ma anche sul fronte turistiche e parcheggi. Sul primo fronte il Comune ha già mandato al Ministero tutta la documentazione necessaria, mancano solo alcuni passaggi. L'iter va spedito, siamo costantemente in contatto sia con gli organi del Ministero e sia tra di noi con la squadra operativa e devo dire mancano un paio di particolari, mancano un paio di visite che non porteranno più di tre o quattro giorni e noi speriamo che per i primi di luglio di aprire finalmente la funivia. Intanto il parco dice sì alla realizzazione di un'area parcheggio temporanea e stagionale in località Le Fontari, considerando i due parcheggi a Monte e a Valle si potrebbe arrivare a circa 300 posti con una quindicina di camper, per disciplinare tutto e rendere l'accesso in quota più organizzato. Ma non è l'unica novità, perché Comune e Provincia si stanno accordando anche sulla strada. Non è un lavoro solo mio e soprattutto del consigliere amico delegato Luigi Faccia, l'avevamo anticipato in consiglio comunale, l'area delle fontari è un'area strategica e di pari passi al parcheggio che andremo a realizzare in risposta al modalità di parcheggi sostenibili appunto contro un'area che era spesso soggetta a sosta selvaggia appunto, stiamo lavorando in parallela con la provincia, con il consigliere delegato Vincenzo Calvisi per far sì che il Comune possa essere soggetto gestore della parte di strada che dal parcheggio arriva fino all'hotel di Campo Imperatore, un progetto pilota, politicamente c'è già l'intesa, gli uffici stanno lavorando affinché nelle more dei passaggi, nelle spettive aule consigliari ci sia la possibilità di dare immediata esecutività a questo che è una risposta importante, alla situazione straordinaria che viviamo al centro turistico ma che possa diventare con il tempo una risposta strutturale anche in termini di ricavi per il centro turistico che ne ha oggettivamente bisogno.